a a a a a sa sa fantacalcio all'alba stamattina fanculo serie a oh lette una parolaccia già video demonetizzato yeah iniziamo veloci intanto non c'è Baraschelia già ve lo dico e in più per chi voleva tutto spettinato per chi voleva schierare Zbiderski visto che non c'è Suslo dunque poteva essere rigorista Baroni ha detto Zbiderski bravissimo però è stanco e ciaone vabbè le novità del giorno sono queste di bala non lo sappiamo ancora ti ho cantato di Marco Pavardo allora quell'Inter li metto dentro tutti ragazzi di Marco Pavardo li metto dentro buongiorno lo metto dentro vediamo se ci saranno news più approfondite ma al momento visto che giocano tra qualche ora buongiorno sembra che ci sia quindi buongiorno lo metto e metto Calafiori fuori Danilo la Lazio ragazzi non si capisce niente come stanno messi perché c'è chi dice che gioca allora Luisa Alberto è acciaccato sembra che lui sia quello che sta fuori dovrebbe giocare Pedro Felipe Anderson dietro immobile con Zaccagni esterno di centrocampo dio mio oppure l'altra è Pedro Zaccagni con Felipe Anderson esterno di centrocampo all'altra parte dunque un casino assurdo vedremo quello che succederà sono molto curioso di vedere Lazio Juventus intanto dicevo di Marco Pavardo buongiorno Calafiori Zaccagni se gioca trequartista lo metto se gioca quarto di centrocampo sinceramente non è che mi ispiri molto soprattutto contro la Juventus quindi che ti devo dire Kun al momento io lo metterei perché non credo che vada a giocare lì certo che Felipe Anderson forse è peggio però va a sapere metto Zaccagni metto Colpani anche lì Pereira quinto di centrocampo è un conto Pereira trequartista un altro forse vado su Vlasic Zaccagni Colpani Vlasic cioè ce li giochiamo tutti il sabato questi oppure metto quattro e tolgo Scamacca lasciando Lukaku no no metto Scamacca metto comunque Scamacca lo sapremo se gioca se parte titolare lo metto altrimenti potresti mettere Zaccagni Colpani Pereira Vlasic e fuori Scamacca se parte dalla panchina ma non essendoci De Chetelare che non è stato convocato direi che Scamacca dovrebbe partire titolare a meno di cose strane tipo Lukman falso 9 ciao Simo che bello essere qui è vero tre tra Zaccagni El Ciarawi Colpani e Vlasic siamo sempre lì tutti quanti questo è tosta anche eh io metterei Zaccagni El Ciarawi e Colpani fuori Vlasic l'altro panta con Orsolini due frattesi che metto la coppia Inter allora io avrei messo la coppia Inter Inter Empoli certo che poi magari ti finisci Inter Empoli 1 a 0 gol di Lautaro e quelli sono 2 6 se non frattesi 5 e mezzo per me vince l'Inter bene però hai un bel centrocampo stasettimana io metto Colpani e frattesi switch barella se hai lo switch se non hai lo switch diventa intricata la questione diventa intricata perché avessi la certezza che frattesi giochi di isolare metterei lui altrimenti forse metterei barella è intricatissima spero simone tua più se hai lo switch credo che Colpani e frattesi switch barella sia perfetta altrimenti yuki ma eri qui anche ieri sera cosa fai qua dormi posh o mancini metto posh mai 30 minuti di ciucquese o 90 di ederson meglio allora se tu davanti già metti look man o scamacca e forse è meglio i 30 di ciucquese anche perché ciucquese non è detto che non parta titolare è ancora ancora in ballottaggio serrato con pulisi che non sta proprio al bellissimo visto che il milan ha un tour de force come la roma io non io schiererei ciucquese comunque in realtà vieni mi ha consigliato luca ma mentre la lucca scamacca primo e tutto il secondo ma sono molto attento a scamacca che dici il dubbio è luca ma la scamacca siamo lì e guardiamo le ufficiali le ufficiali al momento non ci sono dovrebbero giocare entrambi con cup minor certo che se poi si inventa un pasalic trequartista con luca ma ci credo che luca ma giochi sicuramente scamacca io lo vedo in ballottaggio forse con pasalic o con miranchuk con luca man che va a fare il falso 9 poi gasperini ci stupisce se già fanno tutti e due yuk vai di sensazione lì è impossibile capire chi io forse metterei più luca man con la difesa a quattro del napoli piuttosto che scamacca marcato da one jesus e racmani però contando che luca man io non sono convinto che il rigorista con luca man in campo sia cup miners anche perché cup miners ormai venduto l'hanno venduto un paio se voglio andare via non c'è la voglia dell'atalanta di far fare centomila gol a cup miners cup miners va via ormai è benché definito credo la sua cessione luca ma magari può essere più gol fa più quindi io direi boh non lo so io sono più tentato a luca man però più che ma rotto mannaggia il parkour come più che ma rotto ma cazzo visto fino a due secondi fa ho visto le formazioni come più che ma rotto più che ma rotto attenzione ma che dici fuori causa biuc ma per un fastidio muscolare ma porca acciocciuta ma l'ho viste l'ho viste mezz'ora fa aggiornamento alle 10 e 23 ma porca eva ma come più grazie simo chi tra scalvini romagnoli e biraghi al suo posto metto scalvini ho già olm racmani angeligno schierati allora forse vado di biraghi certo che biraghi contro l'esterno del milan che gioca là ragazzi devo andare a togliere più che ma ovunque io metterai scalvini ore te che l'uomo un bohili si sa se ne dia pensate schierare sulle primi due pico mi hanno schierato attacca tre no io schiererei primi due anche io ciao luca ti sei ti auguro buona pasqua anche a te luca e a tutti voi ragazzi buona pasqua che dici carne secchia o coglio non modificatore ma buono sport inviolata e forse non è più suo coglie che quella partita mi sembra più da under rispetto all'altra amico mio ciao Gianmarco scensi o Skorupski forse vado su Skorupski attenzione che l'assenza di Biuche ma pesa porca vacca che era il miglior difensore del Bologna da due mesi a questa parte che io devo andare a togliere ovunque ora va giorno su cosa cazzo faccio che non lo so allora tre fra Bremer di Lorenzo Mancini, Pavard, Masch, Scalabria, Milenkovic, Ruggeri mettere quindi metto Skorupski, metto Bremer di Lorenzo Pavard sì io metto Lovric tra i tre centrocampisti metto Lovric dagli di like grazie Simo ciao Mohamed meglio 4 da 2 con modificatore con Turati Danilo, Dunfris, Calafiore, Rodriguez allora Turati, Danilo, Dunfris, Calafiore, Rodriguez vende l'attacco Scamacca, Turam o 3-4-3 con Toven al posto di Danilo, Schiara già Perera e Rabiot beh con quella difesa lì con Dunfris in Terempoli Calafiori, Bologna Solernitana, Rodriguez, Torino Monza con gli esterni del Monza che non vanno, Rodriguez dovrebbe giocare quinto di centrocampo a parte Danilo che è una partita abbastanza Lognosa, Turati, in porta ma non dovrebbe prendere centomila gol, io sinceramente quella difesa per me se è il modificatore a tre fasce per me lì un più uno lo porti a casa sicuro, se è il modificatore a sei fasce assolutamente 4-4-2, col modificatore a tre fasce quel Toven in Sassuolo Udinese sinceramente un po' mi fa vacillare potresti rischiare anche il 3-4-3 sinceramente Carnesecchio Falcone allora Falcone ragazzi vive una partita molto particolare, può far benissimo ma può anche prendere l'imbarcata perché lui è tifosissimo romanista, la famiglia è tifosissima della Roma, lui l'anno prossimo doveva andare, se non fosse esplosso Svilar era già Roma, con l'esplosione di Svilar bisogna un po' vedere se la Roma arriva in Champions o no, se bisogna la plus valenza su Svilar oppure no se può andare a fare il secondo e giocarsi il posto con Svilar oppure no, l'accordo c'era quasi con Falcone, era praticamente fatto col procuratore, l'esplosione di Svilar un pochino ha frenato la questione io nel dubbio metto Carnesecchi non c'è neanche Varaschelia però probabilmente parlo così da romanista quindi Kun, per me sono sullo stesso piano, però è mettere Carnesecchi ciao Rolome, mi serve il tuo aiuto che ti enteschiiamo con Lucaco Pinamonti, Lapadula e Raspadori allora, se io aspetto le ufficiali, se Raspadori parte titolare mi sa che mi rischio Raspadori e tiro fuori Lapadula se Raspadori parte dalla panchina io metto Lucaco Pinamonti, Lapadula comunque Lucaco e Pinamonti li metto titolari ciao Marco, Ferguson, Pessina, Vlasic, Foloroscio Frattesi, Oden e allora quattro Coopminers, Ferguson Pessina e io metto Frattesi sai perché? Perché Foloroscio è acciaccato Vlasic, è vero che sta facendo bene ma Oden non mi ispira e poi in attacco metto Lucca e Noslin da tiro fuori l'Oriente ciao Mario ci torniamo qua trova Pulisic Ferguson mi rischio Valdanzi in questo caso Valoroscio lo metto attacco a tre Zapatone sicuramente sì sule lo metto per via dei rigori nella partita con Sacchi e tu hai tutti attaccanti belli sta settimana tutti belli hai praticamente credo il miglior attacco low cost costruito per questa settimana praticamente Mario quindi questa è una settimana in cui è impossibile metterla dentro la Zapatone in super forma adesso credo il secondo miglior attaccante della serie A quindi si mette sule si mette ripeto e forse Mota è quello che tirerei fuori a me mi dispiace più che altro farti giocare i tre attaccanti nelle prime tre partite perché io metterei Zapata sule Retechi metterei però te li giochi tutti subito hai la speranza su Baldanzi praticamente di un mondo migliore allora buongiorno Mitico Canta ciao Paolo allora Porta Roma ciao Gaetano Porta Roma ok Porta Roma o Di Gregorio vediamo un po' la difesa allora Zortea Pavard Rodriguez oh De Vrij io mi sa che mi rischio Di Gregorio qui in panchina metto primo panchinaro Tomori e secondo metto Luperto che gioca sicuro poi metto Pulisic Lovric mi sa che mi gioco con Doje in questo caso anche se l'ho sconsigliato ma se è lo switch Gaetano mi faccio Felipe Anderson switch Ndoye altrimenti forse metto Ndoye Giru Reteghi Zappata Zappata che cazzo ne so ma che ne so Zappata Giru e e e altro tiro fuori la padula Reteghi Scamacca Chiesa tiro fuori Scamacca gli altri due so metto Reteghi metto Reteghi visto la difesa del Frosinone tiro fuori Chiesa però è anche vero che Chiesa calcia qualsiasi cosa in questa partita calcia allora andiamo a beccare qualche abbonato giustamente diamo priorità un attimo agli abbonati Walter con modificatore imbattibilità Skorupski bene buongiorno Darmian Posh bene perché con modificatore con quella difesa buongiorno Darmian Posh che è Skorupski che è possibile di un più tre addirittura con Posh che segna perché solo tre Zaccani Candreva Mkhitaryan ma quanti ne metti Lautaro Lucman Zapata tu puoi fare il tre tre quattro ma cos'è tre quattro tre con Pasalic ah questi sono ah ok questa è la tua formazione ok io tiro fuori Nico Gonzalez quindi Lautaro Lucman Zapata quindi mi dici Zaccani Candreva Mkhitaryan li voglio mettere metto Pasalic o metto Zappacosta no io con quella difesa metto assolutamente Zappacosta che dovrebbe partire titolare addirittura ma assolutamente Zappacosta Dario buongiorno uno fuori tra Reteghi sulle Giroux e la Padula uno fuori e tiro fuori la Padula purtroppo niente a Switch purtroppo mi porto da Settembre ma mi hanno lasciato tra un po' per non prenderle entrambi e allora metto Barella Simo però è un peccato è un peccato è un peccato in porta Paolo uno tra Savic di Gregorio e consigli se è il mod di Gregorio se non è il mod forse vado di Savic a centro campo tre quindi a centro campo tre quindi è il mod quindi di Gregorio Pasalic Torzbet Pessina Candreva Mazzitelli io metto Pessina Candreva Sicuri dubbio Mazzitelli Torzbet sapessi le condizioni di Mazzitelli io metterei Mazzitelli però Mazzitelli da quello che so io non si è allenato tutta la settimana dovrebbe farcela dovrebbe partire titolare noie fisiche smaltite poi da Mazzitelli che dovrebbe partire dal primo minuto a me quel dovrebbe visto che è quel Torzbet in una partita da dentro o fuori con l'Udinese mi fa scegliere verso Torzbet però Mazzitelli comunque era comunque un'ottima scelta vediamo qualche altro abbonato dove allora abbiamo poi ci sono abbonati altrimenti ritorniamo a leggere la chat completa non ci sono abbonati che stamattina giustamente dormono sono al mare oppure sono la pesca del trotone quindi cominciamo continuiamo Daniele ciao Ganta io intanto devo cazzo cambiare la formazione che non c'è Biuk ma certo che sto Biuk ma oggi ragazzi ma ma a fortuna ma a fortuna Simone prima perché io non l'avo oh giuro ero facevo la cacca fino a poco ma leggevo le formazioni Biuk ma non ero uscito fuori allora primo fantacalcio Biuk ma poi Spavard e chi e mettiamo Gatti qui c'ho Gatti Gatti o Zappacosta Gatti io tiro Gatti metto dentro Gatti frega niente metto dentro Gatti frega niente frega niente e metto Zappacosta primo panchinaro te così salva salva ok c'ho pure il dubbio di parede si o mannaggio allora 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 te Ferguson metto Candreva Pessina anche qua fuori Mazzitelli Alessio con modificatore Sommer Bellanova Vastori Pista e Carsdorp Pereira Ferguson Carboni Di Bala Reteghi Tioram in panchina Calabria Ruggeri va benissimo Cagliode ok si Reinders Dubbio Reinders Carboni ce l'ho eh però forse avrei messo Carboni anch'io Laurenti Simeone Vitigna consigli no così l'unico dubbio che ho è Reinders Carboni però però ci sta Black Enzima Lore chi metto tra Pessina Passo Vlasic mettere Pessina e tra Immobile Beltran e Sanabria se lo Switch metto Immobile Switch Sanabria altrimenti forse metto forse metto Immobile Fabio Luis Alberto Switch Bobo senza Switch eh Luis Alberto ragazzi è acciaccato dovrebbe partire dalla panchina però vedi cambiano la Lazio cambia continuamente lo spagnolo infatti ha preso il posto di incambio di Luis Alberto che è in dubbio al primo minuto in campionato a causa di un leva affaticamento infatti da quello che stuvi Luis Alberto ultimamente non si è allenato e dovrebbe giocare Pedro che è stato provato da Tudor in tutte le ulti in tutti gli ultimi allenamenti io Boe non lo vedo in gol sinceramente molto più probabile di Luis Alberto io metterei Luis Alberto metterei ciao canta chi schiereresti fa Chiesa e Lucca gli altri io sono Simen e Sule eh eh io metterei se è lo Switch Francesco metterei Lucca Switch Chiesa perché Lucca pure è affaticato Lucca dovrebbe aver smaltito anche lui e gioca contro il Sassuolo e non c'è Erlic c'è tre soldi quindi abbiamo nella descrizione della mia scelta te l'ho data per bacco certo che Chiesa rigorista calciatore di punizioni calciatore di qualsiasi cosa in questa sfida non essendoci Vlaovic non essendoci Milic non essendoci chi che sia io l'ho schierato però non avevo il dubbio tuo il mio dubbio era Chiesa o Abram quindi non c'è stato tanto tanto da scegliere allora questa è stata la risposta prima altro Panta capitano ordine tra Pedersen ciao ciao Stano non mi convince sul ciao sinceramente aspetto delle belle prestazioni certo che Pedersen non è che abbia fatto meglio anche lui però nel dubbio visto che Pedersen ha una partita molto più semplice metto metto Pedersen metto allora io continuo intanto a farmi gli affari miei a cambiare le formazioni ragazzi perché questo biuche che io ho praticamente ovunque ma scardinato il sabato mattina allora poi c'ha una Malenoschi o Ciucquese io quel Ciucquese se non hai altri milanisti tanti altri milanisti me lo rischierei allora allora io Gianmarco ti ho risposto prima non so se hai spammato o no ti rispondo un'altra volta magari era partita dalla pubblicità Skorovski primer di Lorenzo Pavard metterei Zambanghissa e auguri anche a te ciao Toninhos buona Pasqua buona Pasqua anche a te Taninhos scusa ti chiedo un consiglio uno tra Calafiori Carlos Augusto con modificatore metto Carlos Augusto quelli dell'Inter li metto tutti uno tra Angong e Christovic e il Bilalturi metterei Allora se gioca Angong metto Angong se non gioca Angong metto Christovic e lo sapremo a breve Mannaggia Biuche Marotto io ovunque qualsiasi di Pantacalcio apro c'è Biuche ma con col pallino porca misera chi metto chi metto Pablo Maricua io io metto Smalling io metto Smalling perché poi c'è pure chi è rotto io metto Smalling e metto Pablo Maricua in difesa e vaffanculo chi mi entra in caso vabbè facciamo così vabbè poi allora Ruggeri Milenkovic e Pedersen i vado di Ruggeri ho già Bremer e Angelino no mod allora vado sicuramente di Ruggeri allora Dungeon and Dragons Latina così ciao Lorenzo Portieri chi metteresti la di Gregorio carne secchi se è il mod sicuramente di Gregorio altrimenti forse uguale io ritenendo Napoli-Atalanta per tutto quanto lo studio fatto durante la settimana che se avete visto i video avete visto sia il kit del canta sia il canta consigli sia soprattutto l'analisi arbitri io metto di Gregorio perché ritengo ritengo che che Napoli-Atalanta sia la più bella partita del weekend canta tu che sei dentro lo spogliatoio romanista ma anche no anche no assolutamente c'ho qualche notizia che mi arriva da amici ma non sto assolutamente dentro lo spogliatoio di Balagioca tridente con lui Zapato Simene ma copertura solo Ildiz allora Marco io non non andrei di di notizie ma andrei più che altro di ragionamento allora Di Bala dovrebbe giocare gli ultimi 20 minuti tra l'altro non lo sapremo neanche perché questa te la posso dire non ci sarà oggi la conferenza stampa di De Rossi ma ci sarà un'intervista registrata e dunque domande su Di Bala non ne avremo purtroppo avremo un'intervista e quindi lo sapremo presumibilmente lunedì se Di Bala ci sarà o no ovviamente Di Bala in questa partita dove arbitra Marcenaro partita da rigori ricordo che Di Bala cinque partite contro il Lecce quattro gol un assist ogni partita bonus Di Bala si schiera anche perché Zapata gioca Osimène gioca Ildiz non essendoci Milik non essendoci Vlaovic di ragionamento è l'unico cambio disponibile in attacco per Allegri quindi o fanno fanno novantasette minuti Chiesa e Ken o Ildiz mezz'ora se la gioca quindi io lo metto io fossi in te me la rischierei perché il rischio è minimo il mini ti rigiro la frase faccio un gioco semantico il minimo rischio c'è poi ovviamente se tu mi dici a centrocampo io tengo fuori il Sharawi cazzo dico no aspetta probabilmente mi gioco con 4-4-2 se mi dici centrocampo tengo fuori friend group ti dico io me lo rischio dipende un pochino da come da come sei messo ciao magico canta a me mi preoccupa il Verona sui calci piazzati mi preoccupa quindi quel Dossena un po' mi preoccupa perché può segnare probabilmente quello che ha più probabilità di segnare rispetto ora mettendo Pavard e Calafiori chi è tra Perez Lucumino Dossena e Rodiga che ha più possibilità di segnare Dossena ciao bravo Lorenzo complimenti chiudami il canale detto questo il Verona a me di testa mi preoccupa soprattutto viste le parole di Baroni su Svideski qualora giochi a rititolare quindi io vado a mettere per star tranquillo per cercarmi il 6 vado a prendermi Rodiga certo che se tu mi dici io non ho il modificatore e mi serve il gol ti dico Dossena Calafiori Pavard Dossena se son 3 più di Marco per il modificatore ti dico Rodriguez Mazzitelli Ciucquese Carboni io quel Ciucquese posso rischiarmelo se lo switch faccio Ciucquese switch Mazzitelli Scalvini o Colasinaz Cami io metto Scalvini Vlasic che sta facendo l'ultimo mese è strepitoso Vlasic o Artur Vlasic allora canta buone feste ciao Mirko Raspadori Pinamonti vado di Pinamonti tra l'altro vorrei vedere se sono uscite le formazioni ufficiali ma beh probabilmente potrebbe essere ora potrebbe essere ora 10 e 38 più came out infatti apposta mi pareva io mi sono mi sono ripeto stavo in bagno io sto più came out non l'avevo letto 10 e 38 dopo sono venuto in studio fa tutte le mie cosine e dico 20 minuti che cazzo succederà il giocatore che ho in tutti i fantacalci si rompe lui proprio porca va che palle stanno che palle fatemi cercare no io veramente quest'anno è tremendo quest'anno sto sto ero a podio o primo in tutti quanti i fantacalci io ho una sfiga clamorosa il miglior punteggio o uno dei primi tre migliori punteggi in tutti i fanta in tutti e rischio di non vincere neanche uno forse uno forse il fantacalcio di calcio storia riesco a vincere allora vediamo un po' se ci sono le ufficiali allora niente ancora non ce l'abbiamo le ufficiali dunque andiamo ancora a braccio io metto Pinamonti allora Tommaso ciao Grande Canta ciao Tomi consiglio Varaschella Banda e Vitigna out su Banda ancora non c'è la certezza con Giroudi Vala e Beltran gioco a tre o metà attacco a due eh no in questo caso visto che eh Banda non lo sappiamo se c'è o no Cvara e Vitigna non ci sono eh in questo caso no non me la rischio no no veramente in campure prendere un peccolo vedi no io qui tiro fuori Beltran metto Giroudi Vala con Beltran Banda in panchina e metto Valentin Carbone a centrocampo Zaccagni con la Juve sì o no Matteo eh io vorrei essere un neurone nella testa di Tudor se Zaccagni gioca trequartista gioca dalla parte di Gatti e sinceramente io lo schiero se Zaccagni mi va a fare il quarto di centrocampo che ripeto non è il quinto di centrocampo perché parla tutta la differenza del mondo perché il quarto di centrocampo è un esterno più bloccato rispetto al quinto di centrocampo perché c'è un centrocampista in più quando si allarga quando si spinge l'esterno la mezzala copre la doppia posizione minimo e tecnica con tanto al chilo però presta poco è così il quarto di centrocampo la Tudor spinge di meno del quinto di centrocampo alla Gasperini quindi Zaccagni bloccato contro la Juve a me non piace Zaccagni trequartista contro Gatti sì quindi io tendenzialmente dico sì dico però che te devo dire vorrei essere un neurone scusa era solo un attaccante da Luca Noslin e Lauretè allora vado sul Luca vado uno tra Poloruscu e Candrro io vado su Candrero perché Poloruscu è acceccato hai schierato gli stessi che volevo inserire io bene ottimo almeno 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 siamo sulla stessa lunghezza d'onda Meretto Scuffet in questa giornata e solo in questa giornata Scuffet ciao Canta ciao Flavio due tra Scalvini Perez e Angelinio tiro fuori allora se hai il mod tiro fuori Angelinio se non hai il mod tiro fuori Perez uno tra Mkhitaryan e McKennie metto Mkhitaryan chi metto Capitano tra Gudmunds on Turam Lukaku Lukman Sule o rimango chi metto Capitano tra Gudmunds on Turam Lukaku Lukman metto Turam e Sule lo metto o rimango Lukman Turam e Lukaku il dubbio sulle Lukman ce l'ho aspetto le ufficiali Lukman dovrebbe giocare ma il dubbio sulle Lukman io ce l'ho forte metto Lukman però ho il dubbio molto forte non forte molto forte diciamo sto 51 50.1 49.9 diciamo probabilmente lei Lukman uno tra retegito venne tra l'altro io in un Fanta mi sa che Sule l'ho messo fuori fa un po' andato continuo a dare le formazioni perché tolgo Biuche ma da qualsiasi posto e fa un po' vedere se è vero che ho tolto Sule perché mi ricordo 18 fanta calci inserisci formazione se io ho messo Zapata Martinez Lukaku ho tirato fuori Sule grazie al cazzo Zapata Martinez Lukaku fa il fanta da solo allora Zapata Martinez Lukaku se ci pensate era un attacco fattibilissimo a agosto perché sulle preso a uno Zapata preso al 4% Lukaku preso all'asta di riparazione cagando fuori Beto e l'unico è Lautaro che avevo preso un attacco fattibilissimo allora uno tra reteghi tovenne Jovic e Belotti metto reteghi allora Bruno uno tra l'unico Lukman e Lapadula vado di Lukman Gianluca like messo mettete il like porca vacca che vi venga a cercare uno per uno 3 più uno Mazzitelli Rabiot Barella Mera Giublasi metto Rabiot metto Barella metto Torzvet Metto Blasic primo Panchinaro e metto Ndoglie secondo perché gioca sicuro Canta Buone Feste Raspadaria Pinamonti vado di Pinamonti vado vado di Pinamonti Ger 3-3 Giru lo metto Zirk Z lo metto e metto Lukman poi metto Colpani Candreva Candreva Foloruscio Cristante sono tutti quanti sulla stessa lunghezza d'onda secondo me Colpani leggermente superiore perché il Monza segnerà su tiro da lontano però Candreva difficilmente scende sotto il 16 neanche Foloruscio e Cristante è vero però Foloruscio acciaccato Cristante può segnare di testa però ovviamente ci sono altri preposti a segnare buongiorno ciao Pasquale ciao Canta ciao Daniele 3-5-3 togliendo Di Bala e mettendo Baldazzi a centrocampo 3-4-3 provando Di Bala poi 3-Mobile Castigliano scrivete al copertore Luca che è in dubbio allora se hai il cambio modulo mi metto sempre Di Bala perché Baldazzi prima cosa non è rigorista io ho sto cazzo di dubbio e c'era i paredes ogni volta che il nome nella parola Roma è rigorista c'è sempre questo dubbio c'era i paredes ehm poi 3-Mobile e Castigliano allora io metto Di Bala sicuramente ehm eh copertura metti Immobile dovrebbe giocare lui ma anche lì comunque giocano tutti e due sono tutti e due convocabili io metto Immobile metto però copertura allora vediamo un po' se ci sono le formazioni ufficiali vi prego datemi le formazioni ufficiali ma perché non ci sono le formazioni ufficiali ancora ma macca manca meno di un'ora ma quando le vogliono Tiller Forest allora intanto dovrebbe esserci Sommer e vediamo un po' se ci sono le ufficiali ancora non ci sono le ufficiali ragazzi e quindi niente allora allora andiamo a riaggiornare la chat così allora ciao Gabriele uno fra Gaetano Paredes Peppereira eh io metto Gaetano coperto da Paredes ciao Canta like messo ah questa l'ho detto prima Rabio Varella eh Torsved coperto da Vlasi Cendoglie Luca finalmente un abbonato difesa due tra Luggeri Vasquez scontro sull'est stamattina sono sveglio e riesco a girarli vedi se io faccio una diretta la sera alle sette e mezzo dopo una giornata di live non ci capisco più niente così riesco a girare la mattina che sono fresco ho fatto colazione sono più infante allora metterei eh Ruggeri io me li gioco subito questi metto Ruggeri e Rachmani poi metto Colpani Mkhitaryan Coop Miners e metto Torsved parca miseria tosta però tosta sono tutti e quattro sullo stesso livello per me allora allora eccoci qua guarda gli abbonati che sono arrivati allora grande canta ciao Nicolò bella nova Darmian Bremer Mancini Zappacosta allora bravo Darmian Mancini Zappacosta tiriamo fuori uno tiro fuori Zappacosta Gudvonson Colpani Mkhitaryan Frattesi Indogli Miranchuk metti in attacco Lautaro Raspadori Luvumbo ok a centrocampo ne dobbiamo tirare fuori uno io metto Gudvonson Colpani metto Mkhitaryan switch Frattesi se è lo switch altrimenti metto Mkhitaryan ciao Luca difesa questa è la risposta proprio adesso ciao Giacomo uno tra Luca Jovic e Luvumbo vado di Luca coperto da Luvumbo uno tra Noslin e Cerawi o entrambi nessuno dei primi tre no forse però vado su Noslin Beltranno ho modificatore con Smalling e Doiga Cerbi Danilo Olm altre coperture Zanoli Luperto e il tuo mod non è male però se io devo scegliere tra un attaccante allora se il mod è a sei fasce vado su Smalling e metto Doig primo Panchinaro e Luperto che gioca sicuro secondo se il mod è a tre fasce visto quel Danilo e quell'Olmo in partite non semplicissime avessi avuto il dubbio a centrocampo ti avessi detto comunque metti il modificatore col dubbio in attacco visto che probabilmente hai quattro centrocampisti forti tutti e quattro io metto Beltranno e gioco con 3-4-3 canta sono sempre Flavio sì lo so ormai per l'altra parte chi metto tra Brevere Ruggeri metto Bremer uno tra Loftus e Cup Miners Cup Miners e uno tra Zapata e Scamacca ha Zapata tutta la vita io voglio sapere se Zapata parte titolare posso saperlo posso saperlo me lo volete dire le formazioni ufficiali finalmente raga sono uscite allora le leggiamo le leggiamo piano piano tutti insieme attenzione allora Napoli Meret Di Lorenzo Rachmani Juan Jesus Mario Rui Anghissa Lobotka Trore Politano Osimen Raspadori nessuna novità Raspadori titolare questo cercavamo Atalanta non lo sto vedendo ho soltanto la linea della difesa Carne Secchi Scalvini Ien Colasinaz Atebur io lo sapevo io lo sapevo con questo impazziva Atebur Derun Ederson Zappacosta Pasalic Miranciuk Scamacca non c'è Coopminers non c'è Lukman io lo sapevo che impazziva io lo sapevo che impazziva dunque gli Scamacca dentro ora si pone il problema ragazzi qui rigore per l'Atalanta chi lo calcia non essendoci né Lukman né Coopminers né De Ketelare chi lo calcia posso dire la mia per me lo calcia Scamacca Scamacca dentro fuori Lukman ragazzi perché mamma mia io lo sapevo io ve l'ho detto io sono tre giorni che dico che Gasperini sta partita scusate ma mi metto le ciabatte che mi ha preso freddo che cazzo fai ho fatto un casino perché sto sto ho la mochetta in studio però sto con i piedi nudi quindi mi ha preso freddo perché non è proprio caldissimo stamattina eccomi qua allora ho fatto quindi mi metto le ciabattine sto in ciabattine perché in studio c'è la mochettina non entro con le scarpette c'è la metto con le ciabattine per lo studio perché sono abbastanza abbastanza purino Cook Miners è out grazie Pipino metto Miranciuk o Torsved Miranciuk te lo puoi te lo puoi te lo puoi giocare allora Mattia con il foffetto di più che è un reparto difensivo formato da Di Marco buongiorno Peres metto Rodriguez o Carlos Augusto Carlos Augusto secondo me Mattia Danny Logan Lukman Giru Zapata e Lukaku e se è fatta da sola Danny Giru Zapata Lukaku che comunque avrei messo l'ora anche con Lukman titolare questa l'ho letta adesso mettiamo il like per il canta grande Carlo grazie mille allora questa l'ho letta questa l'ho letta sì Andrea ciao canta Politano o Awar Politano tre tra Beltran Luca Noslin e Giru tolgo Beltran metto Luca Noslin e Giru il dubbio Beltran e Noslin ce l'ho però te lo posso dire e Luca è in dubbio quindi magari ti entra comunque Beltran e ti va a dissipare così come fumo il tuo dubbio è abbastanza abbastanza difficile ciao canta Meret o Terracciano metto Meret vista l'Atalanta centrocampo a tre no Rabiot lo metto metto Lovric e sto punto metto Paslic io ve l'ho detto poi ragazzi che mi sentivo sto Paslic titolare e due attaccati tra Castigliano Smota Cambiaghi e Harry metto Mota e metto Harry cioè canta misericordioso per Bacco quattro in difesa per il mod tra metto Bissek metto Di Marco metto Carlo Assagusto no sono troppi metto Di Marco Carlo Assagusto metto a sto punto Danilo e mi provo la giocata di Fino Masina lei tra centrocampo tra metto Fabian sicuramente si metto Lovric metto Mazzitelli Michele gioca quattro dietro con Lazzaro coperto contando che ho modificatore pur rischio il centrocampista più mettendo Felipe Anderson beh dipende di chi sono i difensori sono Ien sono Carsdorp e sono eh Bitieska no metterei Felipe Anderson se i tuoi difensori sono Di Marco eh Pavard e cazzo e buongiorno eh metto no metto metto Lazzaro insomma ciao Cantello ciao Matteo modificatore dinamico di Gregorio Calafiori Calasuz Romagnoli Lazzaro Valerio cittano a fa 5 Lovric no 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 assolutamente assolutamente quella difesa lì l'unico che non mi piace Romagnoli forse metterei più Valeri di Romagnoli forse ma se ti senti Romagnoli metti Romagnoli e vai così alla grande Giacanta Politano Ovar Politano Tretra Beltran questa è la letta prima tiro fuori Lu Beltran Miranciuk Loftus Cic Bruno Miranciuk potrebbe potrebbe non essere male potrebbe non essere male Pasalic o Miranciuk questa questa che è Filippo allora io contando che gol dell'Atalanta previsto da attacco al centro o tiro da lontano sul tiro da lontano lo metto Miranciuk Fanculo Gasperini Lucvan Out è un po' il pensiero di tutti quanti uno tra cioè chi ha scamacca no chi ha scamacca gode uno tra Fabian e Barella metto Fabian e uno tra Ruggeri Gegé Pavlovari e Gallo attenzione a Gallo attenzione perché Gallo è sposato con la gossip così un tanto al chilo Gallo è sposato con la figlia di Giacomo Mazzi che è l'allenatore in seconda della Roma così buttata lì e anche per lui come per Falcone sta settimana una settimana molto particolare quindi eviterei Gallo io eviterei Gallo Paolo Marino sta facendo bene e poi contro Zapata contro questo Zapata in questo momento sinceramente non metterei neanche Sergio Ramos non sapendo né leggere né scrivere vado a mettere venti minuti di Ruggeri che mi porta il sei e ce ne freghiamo altamente Antonio Di Bala allora Di Bala da quello che so io si fa gli ultimi venti minuti della partita con Lecce però non lo sapremo noi Di Bala fino a lunedì perché De Rossi oggi non fa conferenza stampa e quindi su Di Bala lo sapremo lunedì attorno alle diciassette quindi Di Bala si mette con copertura perché venti minuti di Di Bala contro il Lecce cinque partite tutte e cinque bonus quattro gol un assist che ti devo dire Marcenaro arbitro due partite con la Roma due vittorie due rigori Di Bala si mette Di Bala si mette con copertura ovviamente con copertura ma anche con copertura fa l'attacco a due Di Bala dentro fuori l'altro Allora Marco Di Lorenzo Meret Di Lorenzo Rachman Guangesus Mario Lui Ah sono le ufficiali dico che dico che formazione hai fatto che asta hai fatto dico porca miseria Allora vediamo un po' Pasalic o Mazzitelli Matteo vi metto Pasalic a questo punto ho visto Luco metto entrambi attacco a due avendo solo Luca Cambiaghi Di Bala Luco Banda io faccio attacco Lukaku Di Bala Luco Man coperto da Cambiaghi e Banda frega niente tanto Luco Man entra Luco Man io vorrei perché oltre oltre questo io vorrei anche le panchine vorrei che fantacalcio non mi dà ma che magari Eurosport mi dà vado a vedere le panchine un attimo eh allora vediamo un po' Napoli Atalanta formazioni ehm Lukman è in panchina quindi Lukman entra quindi mi gioco l'attacco l'attacco a tre mi gioco Lukaku Lukman Di Bala coperto da Cambiaghi e Banda che dira a laureate che dira perché non c'è neanche Caglio Giorgio e quindi che dira si rigioca tutti i 90 minuti che andremo a Miranchuk adesso inizia a vacillare qua Fivino inizia a vacillare forse mi rischiere Miranchuk Miranchuk Love to stick e inizia a vacillare forse mi rischiere Miranchuk Coopminer Mazzitelli Ondoio Ferguson vado comunque di Coopminers buongiorno coperto da Mazzitelli buongiorno capitale più che man out Tosseno Scalvini se hai il mod vado di Scalvini se non hai il mod vado di Tossena se hai il mod a sei fasce sicuramente Scalvini se hai il mod a tre fasce dipende dagli altri giocatori che hai se hai ripeto metterei forse più Tossena mi cerchi il bonus se hai gente cazzuta un Di Marco un Mancini metterei forse più Tossena a sto punto Lucman o Pinamonti e a sto punto invece Simone forse vado su Pinamonti Pasquale Fabian e Barella Fabian e poi vado di Ruggeri la risposta prima questa questa la risposta prima immobile Luca vado su Luca Leonardo in panchina immobile Candreva Vlasic secondo me nel Torino quella partita sarà da under e segna Zapata quindi metto Candreva Pasalec Miranchuk visto che poi l'assenza di Buc fa un po' tutta la differenza del mondo Pasalec Miranchuk Candreva forse vado su Miranchuk chi tra Rachman e Tossena e Spence anche per poi Miranchuk quello che è successo in settimana non voglio parlarne non me ne frega niente sinceramente in un canale fantacalcistico ma quello che è successo tra Miranchuk e Malinoski può dare una spinta in più a Miranchuk per far bene chi tra Rachman e Tossena e Spence metto in questo caso metto Tossena Ricciao e buona Pasqua canto uno tra Vasquez Perez Zappacosta metto Zappacosta due tra McKennie Sanabria Svideski Cristovic e Beltran due tra questi metto Sanabria e Beltran uno tra Svideski Ciro e Tati metto Ciro anche perché ripeto che Barone ha detto Svideski bravissimo sei qualificato con la poronia bravo Svideski campione fortuna bravo 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 è tornato stanchissimo la nazionale si è fatta sentire dunque presumo che Svideski non debba giocare poi magari gioca fa doppietta e però tanto noi da qualche parte ci dobbiamo attaccare e dove ci attacchiamo se non alle interviste degli allenatori tolguno tra Candreva col padre Zagagna e il modificatore dipende dal modificatore se è un buon modificatore Candreva lo tolgo se ripeto se hai mi fate sempre ripetere le stesse cose se hai Pablo Marie De Winter Tre Soldi e Giannetti metterei metterei Candreva insomma è così allora Marco difesa a quattro cambiaso con la Sinabisa e Zottea oppure cambia qualcuno Danilo Rodriguez e Rachmani beh con la Sinaz no con la Sinaz gioca che sto dicendo Ginsidi non gioca io con la Sinaz Rodriguez lo faccio il cambio intanto Zeta Belotti o Lucca Zeta grazie per l'adorazione vado di Lucca vado anche se in dubbio e Belotti primo panchinaro me la gioco così allora Alessio tre tra Acerbi Dossena Gatti Martina Squarta Roderick Smalling metto Acerbi metto tre quindi bonus Acerbi lo metto perché vuole riscattarsi metto sicuramente Gatti e mi rischio Martina Squarta Poi metto Barella Candreva Zaccagni Blasic Lukaku Pinamonti Lapadula Canta mannaggia adesso metto lo switch Lukman su leggi Gudman vice eh che metti lo switch Lukman su le Lukman non gioca che switch metti Lukman non gioca quindi no può entrare al posto di Combiners metto switch Comperera Zaccagni no 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 lo switch lo sappiamo non serve a niente adesso lo switch aspetta oh puoi mettere su le al posto di Lukman va benissimo ok e io Gubmaner lo metterei comunque Scamacca sì Scamacca lo metti ovviamente sì Scamacca lo metti riaggiorniamo la chat butta bruttomoso e becchiamo Vincenzo buona vigilia ciurma buona vigilia capitano grazie Vinso buona vigilia a te e buona Pasqua ciao canta Meret o Martinez io metto Meret Mota o Laurenti Mota Gaetano due tra Cristovic Simeone in gong e piccoli il resto infortunati e Blaovic metto Cristovic che è l'unico che gioca e e poi non vorrei mettere piccoli che è vero che anche lui dovrebbe giocare perché dovrebbe giocare esterno al posto di Bandà ma metto forse in gong forse in gong canta Meret otturati difesa senza mod senza mod vado vado di Meret vado mi sta rivenendo sulla colazione così di botto che bello Marco che schifo Marco Carlesecchi good morning cambiaso oggi oggi me li potete fare perché mi sono svegliato un'ora e mezzo fa e quindi me li potete fare oggi tranelli fammeli a fare il venerdì sera dopo che sto mi sveglio dalle 6 di mattina dopo che sto in diretta dalle 3 di pomeriggio fammeli il venerdì questi Marco good morning io sto lì che cazzo è good morning che cazzo esatto adesso me li puoi fare good morning cambiaso cazzo un Jerry ciao metto good morning metto cambiaso metto Pavard metto Ruggeri perché è vero che Gatti io stesso l'ho schierato perché per me può far bene perché l'unico schema secondo me con quale la Juve può segnare un calcio piazzato detto questo Lazio Juve due difensori non li metto anche per poi vedo con la coda dell'occhio sotto Rabiot e quindi tre non ne metto Kubmeiner lo metto metto Ferguson metto Rabiot mi tengo quel Fabian lì poi metto Turam Sule e metto Fabian quindi 4-4-2 Davide 3-3 Rabiot Mazzitelli Indogli Vlasi Zambio Enrique metto Rabiot Mazzitelli e metto Vlasi ci importa Carnesecchio Martinez Martinez ciao Dio canta che detta così potrebbe sembrare sia una sia una magnificenza della mia persona elevando la divinità ma sia anche un'imprecazione nella settimana santa benissimo uno che tra Castellana sono Beltran e vado di Beltran eh sì Fizzone Beltran dovrebbe parte sicuramente titolare perché non c'è buona avventura è vero che gioca tre quartista ma Castellanos per me si fa 30 minuti al posto di immobile e sarà difficile scardinare la difesa della Juventus ciao Carta ciao Paolo modificatore classico a sei fasci anche perché secondo me tutto al punta non perderla perché un Lazio Juventus viste le ultime difese la Lazio cinque gol nelle ultime tre uno zero a zero Lazio Juventus un uno a uno Lazio Juventus un uno a zero Lazio Juventus per Tutor sarebbe comunque un buon risultato modificatore classico a sei fasce due tra Danilo con la Sinaz e Zortea metto Danilo Zortea poi metto Mkhitaryan Lovric e metto forse più Sanabria ciao Ale tre tra Mario Rui metto Cambiaso metto Casale che gioca Braccetto e già conosce Tudor e vorrà far vedere a Sarri ci sono giocatori oggi che hanno delle motivazioni in più che sono Miranchuk che probabilmente Miranchuk gioca per quello che sono Miranchuk che sono Casale che sono Acerbi eh quelli sono giocatori che io schiero e poi metto Mario Rui poi metto Cialanoglu Pessina Pasalic e Pereira tiro fuori Renders porca miseria Special One grande canta metto Pereira e Felipe Anderson in questo caso poi metto Scamacca sicuramente e metto Sule fuori Beltran primo Manchinaro Cambiaso provato nel tridente anche potrebbe essere interessante anche se non segnerà mai sì sì infatti vedi infatti Marco Cambiaso lo sto preferendo ieri no ieri su Danilo Cambiaso dicevo Danilo visto che le ultime news danno sto Cambiaso nel tridente con Chiesa esterno appunto insieme a Cambiaso e Ken prima punta o addirittura si parla di un Ken falso 9 con Ildis Cambiaso con questo tridente atipico infatti lo sto preferendo sia a Danilo e sia a Gatti infatti Cambiaso e non segnerà mai ma però Cambiaso nel tridente sicuramente non fa cazzate in difesa insomma è quello un po' il segreto secondo me grazie comunque della puntualizzazione mi ero dimenticato di dire Tosbed o Pessina metto Pessina Scamacca con Nico metto Scamacca più Struid lo so che l'ho chiesto ieri ora con Mario non fa titolare metto Pulisic Scamacca Samarzizio Barella Blasi grazie per la risposta molto gentile no io tiro fuori Samarzizio e metto comunque Cup Miners Mauri meglio il mod con uno tra Calabria Zortea Angelinho oggi troppo con Miranciuc con Lazovic se il mod è possente però Maurizio no comunque continuerei a preferire forse Zortea se il mod è un po' ballerino quel Miranciuc ci sta attacco meglio Immobile o Castellanos continuo a preferire Immobile Buona Pasqua in anticipo Buona Pasqua anche a te allora Thomas ciao canta due Tato Svet Miranciuc Masitelli e Carboni metto Taro Svet e Miranciuc Andrea uno più primo macchinario Trondoglie che Andreva e Lovric metto Lovric primo macchinario che Andreva Davidano buona vigilia grazie anche a te per la panchina Caputo piccoli piccoli perché gioca sicuramente titolare alla fine ho messo tre quattro re conto venne e si confide in tre soldi esatto hai fatto benissimo Milinkovic di Gregorio Massimo se cerchi il modificatore sicuramente di Gregorio se cerchi il clean sheet è più probabile che lo faccia Milinkovic Savic allora cazzo devo mettere Scamacca no mai zapata per colo Lukaku Ereteghi no 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 mai zapata mai zapata fuori Scamacca allora no no mai zapata in questo momento che è che è l'attaccante credo più forte dell'universo in questo momento raga è in forma strepitosa giocato tra Belotti la paduna Salabria tiro fuori Sanabria lo metto tiro fuori la padula perché mi pido del gallo Mattia Lotaro Belotti Di Bala in panchina Angong e Sanchez rischio attacco a tre faccio a due questo c'è più rischioso io già qua visto quel Belotti se magari tu rischi di panchinare un Paredes io forse metterei o rischi di panchinare un Miranchuk o rischi di panchinare un Pasalic o rischi di panchinare un giocatore appetibile forse quel Belotti lo tiro fuori faccio Lotaro Di Bala con Belotti Angong in panchina svilaro di Gregorio Vince se metti di se hai il mod metto di Gregorio se hai un bel mod a sei fasce sicuramente di Gregorio se cerchi il clean sheet ci può stare a svilarla perché per me Zapata segna Treta da Reteghi Lubombo Sule Scamacca Gristovic Reteghi Sule e Scamacca buona Pasqua buona Pasqua anche a te allora Andrea uno tra quarta Paschirotto Carlo Assogusto Olmen Luperto Carlo Assogusto per pace allora ciao canta tu metto Frattesi metto Cup Miners metto El Sharawi e metto Orsolini Massimo canta sei un grande ma grazie mille Massimo è sempre bello fare la live perché fa aumentare la mia autostima ah è finito lì Tex yellow goal medal yellow first red pop corn yellow stripe smile grazie mille Massimo dopo dovevi solo dirmi che sono un grande e sono contento canta ciao Gaetano chi mette la carne secca io consigli mamma mia questa è tosta ma contando che Sassuolo Udinese è la partita con il team trend ponderato più basso 1.5 io metto consigli Luke ma non gioca con Sanabria contro il Monza ci può stare ci può stare Giallo ci può stare non ti dico che è una buona idea ma è un'idea sensata non dico buona ma sicuramente sensata ciao ciao Alessio 2.3 da Sommarinovski e Kenny Rabiot metto sicuramente Rabiot non vorrei mettere due della Juventus forse vado su Ederson Reteghi Zapata Pinamonti Beltran Luca Zapata sicuramente tra Pinamonti e Reteghi e Luca cazza rana sono uguali sono uguali sono uguali sono uguali allora Beltran lo tolgo Reteghi Pinamonti Luca allora Luca è l'unico acciaccato in dubbio e quindi mio malgrado devo tirarlo fuori Reteghi gioca contro la difesa del Frosinone però Reteghi fondamentalmente viene da una settimana bellissima e nazionale ma si è speso tanto e in più al Genoa il Sassuolo si gioca la partita della vita e Pinamonti è rigorista ale per questo motivo io metto Zapata Pinamonti se con Manero non dovreste entrare chi mette il primo panchinaro Manenowski o Rabiot sicuramente Rabiot ma io Rabiot lo schiererei titolare in questa partita anche perché Rabiot ricordiamolo che nella Lazio la sua vittima preferita in Italia per partecipazione al gol dunque non solo per gol ma anche per partecipazione due gol e due assist in sette sfide detto questo mettere il Rabiot Buona Pasqua grazie a te Special One auguri anche a te Angi Drago 3-3 oh è Lautaro lo metto metto Scamac e metto Pinamonti fuori purtroppo Lovumbo ciao Ivan chi lascia fuori uno tra col pane Fabio con Miner McKennie tiro fuori McKennie allora canta Bukham out basket o Bani io metto Bani sai perché Fabio perché basket se la gioca contro Sule e perché per me il Genoa può segnare da calcio piazzato e per me Bani è più probabile che vado a segnare rispetto a basket a centrocampo ballottaggio tra Froyler o Ederson sai che forse vado su Froyler buona Pasqua anche a te Fabio grazie mille ciao Leo leggi leggi titolare passa il media tra la punta Scamaca metteresse entrambi la punta la padula Lucca se uno tra no no Lucca sicuramente lo metterei il dubbio la padula Miranciuk ce l'ho ed è anche forte ed è anche forte il dubbio la padula Miranciuk continuo a preferire la padula però il dubbio è forte Sbideschi o Beltran è anche gioco contro Beltran Beltran Nanito Murrito c'è la carta fantamantra aspetta scusa Nanito rispondo a Simo che l'ho un po' lasciata perché magari è entrato dopo su Sbideschi sono le parole di Barone che ha detto praticamente che Sbideschi ha fatto molto bene con la nazionale ma è stanchissimo e quindi probabilmente non giocherà quindi metto Beltran solo per questo motivo Simo allora Nanito Murrito fantamantra 3-4-2-1 Carlos Deron Ferguson Zaccagni sì lui perché voi pensate ma il 3-4-2-1 essendo un modulo che io non gioco visto che faccio la difesa a 4 mi devo ricordare bene le posizioni perché sono 13 moduli ora me ne ricordo ma ACW C C P P P me ne ricordo tutti dovrei stampare un foglio in A3 e mettermelo lì infatti lo devo fare ora lo farò Lugumbo Gudmundson Lautaro Lugumbo Gudmundson Lautaro ok oppure 3-4-3 Carlos Ferguson Mkhitaryan Lasovic beh però con il Mkhitaryan mi piace Lautaro Gudmundson non è uno tra Zaccagni e Lugumbo no 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 faccio metto la M metto la M metto la M canta Lukman dalla panca meglio Pasoli c'è quasi uno tra Zaccagni che andrebbe a Mkhitaryan non so io continuerei con Zaccagni che andrebbe a Mkhitaryan il dubbio Walter è sempre lì se Zaccagni gioca esterno di centrocampo sì ovvio sì 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 però se Zaccagni mi gioca trequartista contro Gatti io Pasoli c'è Napoli forse preferisco Zaccagni è tutto lì è tutto lì è tutto lì ma io eh io non lo so quello che fa Tudor non lo so io presumo io ti do la mia interpretazione io presumo che Zaccagni giochi trequartista presumo e Felipe Anderson parta dalla panchina o addirittura giochino Zaccagni Felipe Anderson dietro immobile presumo però che te devo dire ciao canta buona Pasqua ciao Ricky difesa 4 con Smolli c'è Trabba 4 1 travesino l'istramo valet in carboni beh se la tua difesa da modificatore è buona metto Smolling sicuramente che dovrebbe giocare gli ultimi 20 minuti portare a casa il 6 tondo tondo e chi se ne frega se invece la tua difesa è un po' ballerina forse metterei più valet in carboni allora Miran Ciukes ha Noslin un posto continuo a preferire Noslin però 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 ciao canta 3-3 immobili anche perché intanto ragazzi scusate ma prendo l'acqua che mi ha preso sete perché 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 per me Zaleschi dopo quello che ho fatto in nazionale bene 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 per me giocherà parecchio oggi dunque non vorrei una staffetta del Cerawi Zaleschi addirittura al 45esimo infatti ci sto pensando di mettere parete sto pensando di mettere parete su un bel po' mamma boh se ne toglie le Cerawi mettere parete adesso eccolo che ho buttato l'acqua a un culo sti cazzo di tappi di merda di culo come 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 si chiude come si chiude come si chiude come si chiude sti tappi di merda adesso voglio come la chiudo st'acqua forse è così ecco un culo sono bagnato tutto allora immobile casella beltran luca svideschi laurette o lo switch beltran luca immobile switch castellanos allora andre ciao canta uno tra poloruscia cristante lovric e mazzitelli metto lovric metto perché poloruscia e mazzitelli sono acciaccati e cristante è forse il meno offensivo di loro ciao canta ciao jway modificatore leggero con uno tra olmo martina squarta perez oppure vado centrafe quattro con dentro uno tra frattesi giuque su uden dipende chi sono gli altri difensori se sono difensori buoni a modificatore di marco pavard metterei forse martina squarta no metterei olmo che parte dalla panchina e meno di sei non prende altrimenti vado sicuro dei frattesi ciao te 348 3452 coglie svilare svilare metto posh cerchi bonus tu quindi posh angeligno racmani ferguson godmund solmira ciucca alciarawi a sto punto scamacca sulle jovic 343 il dubbio loftus jovic ce l'ho sanabria o mota metto sanabria thomas nisar 3-3 immobile bel tralluc van immobile switch castellanos allora ciao il kun carnesecchio falcone su falcone ragazzi bisogna interpretare bisogna essere psicologi su falcone è vero che falcone contro la roma fa sempre belle partite però sto giro con falcone vicinissimo alla roma io sto giro diventa veramente da libro cuore sta roba contato che per me un paio di colli prendono entrambi mi vado a rischiare un rigore parato da carne secca non lo tre bozelle zappacosta mario lui forse vado su zappacosta da quinto un marco 2 3 raspadori sanabria laurentè raspadori sanabria per me girrus ciao canta schiero giacirò e pulisic schiero tra jovic giuric cambio modulo con miranciuk secondo me puoi cambiare modulo con miranciuk in difesa con modificatori uno tra danilo cagliote con la sinaz mi rischierei danilo non mi rischierei monster football 27 ciao canta 4 tra valdanzi pasalic fabian frattesi vanzitelli ederson metterei i primi 4 valdanzi pasalic fabian e frattesi io ho il dubbio parede esserciaragli ve lo sto dicendo marco mi hai scritto perdone mi canta se come non dovesse entrare che mette prima che era marinoschi o perera metterei perera metterei marco ale di lorenzo mancini d'alilo zappacosta tre tre quindi cerchiamo i bonus di lorenzo mancini zappacosta poi metto candreva pasalic ederson reinders osimen lucca e sulè fuori fuori chiesa tosta aiutami tu ti prego barbiere chi mette una te che girù girù metto anche perché non c'è non c'è teo hernandez è lui rigorista allora allora riaggiorniamo la chat riaggiorniamo la chat così allora becchiamo alessi abbonato la rente o pessina vado di pessina sbaglio la rete è vero che arbitra aureliano che rigorino tantissimi è vero che aureliano fondamentalmente un arbitro che gli frega soltanto del bologna aureliano chi gioca chi si gioca il posto in classifica col bologna di solitamente è un disastro è vero eh se ci fate caso e invece le altre partite arbitra tendenzialmente anche bene aureliano basta che non c'è una squadra che si lotta una posizione di classifica col bologna lì in quel caso lì aureliano tante volte impazzisce per il resto è un bravo arbitro e quindi non dà tantissimi rigori però comunque metto pessina metto pessina Giacate voglio aiutare tu Turam e Zizia intoccabile sono deciso tra le teghe e Ciru Ciru secondo me ma modifese con le classiche a queste fasce va bene e va bene sì ma è il più bello per me perché fai delle belle difese Bellanova Tomori Danilo Zortea Colasina Cardo Milenkovic Bastone sì ci sta Felipe Switch Lovric ci sta ci può stare rimettere Lovric direttamente però se vuoi mettere Felipe ci sta assolutamente Gianluca like messo mettete i like io 3 più 1 mi è stato risposto prima t'ho detto Rabio t'ho detto Barella e t'ho detto ah t'ho detto Torsbet perché non sapevamo di Miraciu che hai ragione continua a preferire Torsbet metto Miraciu ricoperto da Doig e Giandret Giuliano ciao c'è la canta 2 tra Coopminers Lovric Forlo Ruscio Torsbet metto Coopminers Lovric Coopminers coperto da Torsbet ma oddio Coopminers Torsbet Lovric che copre Coopminers Canta Nomod 3 da mettere tra Scalvini Zappacosta Olm beh un po' un po' Atalanta ce l'hai ma eh Cristian Sen e Cars dell'Atalanta metto anche Scamacca e allora metterei sicuramente Cristian Sen metterei Zappacosta e vado su Cars Masitelli o Prattesi ho già Mkhitaryan in campo metterei Prattesi comunque Montipò o Coglie e questi sono praticamente identici sfide salvezza forse metto Coglie di Gregorio Svilar e ti ripeto Vince se hai il mod bello cazzuto di Gregorio se cerchi il clean sheet più Svilar poi metto sull'ere Teghi Scamacca fuori Rubumbo Cristovic Lucca Lucca si sa perché Occiò non gioca è perché gioca Costilla perché gli preferisce Costilla con l'Antuono uno fuori tra Dunfris Bellanova buongiorno Calafiori uno fuori e Carlos Augusto uno fuori beh ne tiro fuori uno del Torino Luca sto per dire una cosa di cui me ne pentirò io tiro fuori buongiorno perché è acciaccato in dubbio i due dell'Inter in Terempoli non li tiro fuori Bellanova in questo momento non si tira fuori Calafiori Bologna Salernitana non si tira fuori il dubbio buongiorno Calafiori ce l'ho però metto buongiorno tiro fuori buongiorno perché è acciaccato chi fra Beltran e Lapadula per affiancare Giroud e Christovic per il passaggio in Coppa io metterei forse più Lapadula però io farei Giroud Beltran Lapadula e tirerei fuori Christovic però se vuoi mettere Christovic mettere forse più Lapadula ciao capitano Castellanos o Laurentè Castellanos per me Laurentè ragazzi veramente male veramente male cioè Laurentè raga se segna è come se segna grazie Canta buona giornata in tutti i sensi grazie Ema cioè se Laurentè segna raga al momento è come se segna Carzorp cioè capite non è che dobbiamo dire oh che sfiga ha segnato Laurentè l'ho lanciato in panchina ha fatto un gol stanno per culo perché gliel'ha regalato Cesni quindi se segna Laurentè al momento Laurentè zero golle quindi è come se segna Carsdorp è come se dice ha segnato Carsdorp non l'ho messo e che caso non prega niente è uguale quindi metto comunque Castellanos uno fuori tra Lukman Miranciucco Toven e uno dell'Atalanta ne tirano fuori e tiro fuori Lukman perché non gioca ciao ciao canta McKennie o Lovric Lovric uno fuori tra Tossena Gatti Acerbi e Vasquez io tiro fuori Vasquez contro Sule che è quello che mi ispira di meno sinceramente Mkhitaryan Scamacca o Lukman metto Scamacca ho detto te l'ha detto anche Pinamotti no Scamacca metto Elio Immobile o Belotti eeeh metto Immobile ancora metto Immobile visto che sono arrivata alla fine della chat e mancano 13 minuti io ragazzi adesso sai che cosa faccio guardate che cosa faccio visto che mi faccio in 4 per voi e siete ancora 44 vi chiedo io ora di risolvere il mio dubbio di giornata se mi apre se mi apre la chat qui vi risolverei anche perché io veramente sto proprio messo male allora chi vediamo un po' perché magari chi dentro tra Paredes e il Sharawi avvia sondaggio vi prego aiutatemi mantra Scamacca PC o Okafor Scamacca PC vai canta grazie Marco dici tutto Lore e vi ho messo il sondaggio vi ho messo perché non lo vedi il sondaggio adesso non è il sondaggio non vedete il sondaggio che bello cioè 71% Paredes 75% Paredes raga raga ci state porca votato grande Carlo cioè raga attenzione sta recuperando il Sharawi allora mi sembra che posso consegnarla fino a 5 minuti io lascio a 5 minuti di sondaggio mettilo senza paura cioè raga no io adesso vi dico adesso ormai tanto ormai sono arrivato alla fine della chat allora io adesso vi dico la mia formazione allora sul Fanta TV Play che ripeto so attacco migliore punteggio migliore sto quarto sto quarto è vero che siamo in 4 in 3 punti quindi sto quarto faccio anche la scena perché una vittoria arrivo primo però sto quarto miglior punteggio e miglior attacco raga io rosico non sapete veramente quanto rosico Baldanzio Silemakers vado di Baldanzi Elio tutto tutto niente niente Filippo Ciucquese come pun doppia vado su Ciucquese Luca Skorupski Osvilar vado su Skorups su Skale Valinoski Olovric Olovric Marco Lovumbo Sanabria vado di Sanabria farete sbatti a giocare il giallo poi fai te infatti sta recuperando farete adesso il cerave allora io vi leggo la mia formazione perché non posso neanche cambiare perché è vero che ho De Ketelare rotto quindi dici li puoi mettere entrambi no non lo posso fare perché lì ho anche un gran centrocampo mi mancano quattro minuti e gioco con Carne Secchi in porta perché il dubbio è tra Carne Secchi e chi ciazzo ah no solo Carne Secchi perché prova dell'infortunato Carne Secchi e Musugno Carne Secchi purtroppo Gatti Posh Pavard Smalling Smalling coperto da Zappacosta Ferguson Frattesi El Sharawi e anche Rabiot Chiesa Lautaro Zapata o anche Rabiot in panchina Ferguson lo metto Frattesi lo metto e cazzo centrocampo falli scambi no vi dico a voi sempre falli scambi fai scambi fai scambi intanto stat 61-39 Paredes due travali venoschi frattesi miranciuk metto frattesi miranciuk Elio come triattacca vado sulle a ausenza di Bale panchina immobile primo e belotti secondo secondo me sì Jovic in tribuna che ne pensi penso di sì Elcia tutta la vita benissimo canta portami fortuna sono conto il secondo che sta a meno uno da me vai vinciamola meglio fare ad essere rigorista anche secondo me meglio è lui nettamente più forte di me ma che gli fa anch'io sono nettamente più forte però sto quarto l'ha visto guarda 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 classifica ve la faccio vedere guarda il mio rosso e sto quarto guarda sì il mio rosso il mio verde e sto quarto guardate ve la metto classifica in punti totali e sto quarto sto sto quarto porca Eva ma si può giocare così si può giocare così si può giocare così Stefano uno tra colpani lo to slow skamack o girum metto colpani e metto girum metto però raga metto paredes allora eh cioè io se perdo questa ve la rinfacerò tutta la vita dai non posso metto paredes quanto disti dal primo canta no tre punti faccio la scena tre punti cioè stiamo lì siamo in quattro in tre punti cioè io sono quello con più gol subiti quindi ci sta ovviamente faccio la scena però anche giusi vo attenzione anche giusi vota paredes e allora e allora ragazzi e allora ragazzi mi dispiace mi dispiace ragazzi ma chiudo il sondaggio e e metto paredes se giusi dice paredes io metto paredes avevo switchato infatti avevo switchato paredes del charawi del charawi infatti non è bene è così inizia invece il dubbio frattesi del charawi adesso parca Eva ma se io tolgo frattesi e metto del charawi me tolgo frattesi e metto del charawi no e frattesi lo metto lo metto in panchina ma chi se ne frega c'ho l'autaro io metto del charawi paredes questi gran cazzi no ho solo due romanisti ho ho smalling ma non gioca oppure faccio la difesa a tre no faccio la difesa a quattro basta all the braves all the braves basta basta allora ci sto con con il mignor ma adesso il primo ma che è il barac secondo secondo me sì lore castellano dentro scarpiti di sanabria il resto con lo taro tovenne sanabria il resto con lo taro tovenne sanabria moto sviderski david metto mota cestino coglie per imbattibilità e uno tra mira ciuffolo ruscio e rende aspetto cestini e metto miranciuk così ci piace sempre tre tra sulle zaccagni pasali gudmundson nosli sulle gudmundson nosli secondo me fuori zaccagni e fuori pasalic quanto mancano sei minuti ciao canta c'è Agnese Danilo parola di colombo cristo c'è una risoluzione per far spettare ci sta assolutamente sì assolutamente sì assolutamente sì mamma mi c'è sto dubbando tolgo il sharawi e metto frattesi holy the briefs grazie quanto manca 29 secondi 27 secondi chi metto chi metto chi metto dai ormai metto il sharawi buona pasca buona pasca se sei però dai metto frattesi tolgo il sharawi e metto frattesi tolgo il sharawi e metto frattesi e il sharawi primo panchinaro mettilo primo panchinaro salva salva mettilo primo panchinaro dai salva 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 ho messo frattesi perché sono frattesi e il sharawi fa porco giuda ma si fa metti tre dietro e e che sono l'unico che gioca con i quattro quindi mi dispiace ma in oschio ederson ederson per me martinez o shesni shesni luca informazione consegnata a tutti sì sì consegnata a tutti credo e vabbè è così quando vieni a casa passi da tu madre e senti se ha due uova ne ho solo due benissimo tanto messaggi che arrivano così benissimo allora ragazzi quattro minuti restano le informazioni le avete consegnate tutte vi faccio buona pasqua a tutti quanti grazie per essere stati qui in live e ci vediamo lunedì sera qui sul mio canale youtube per i fantastici quattro con recosta carmi e il prop e e poi raga ci vediamo prossima settimana martedì kit del canta mercoledì canta consigli giovedì analisi arbitri questa giornata dipende come sono frattissime parete tante ore a voi carlo auguri a te e giusi buona pasqua capitano buona pasqua a te marco e poi vi ricordo tutti i giorni alle ore 15 in live su tiboplay sul canale viola trasmissioni veramente molto divertenti poi ci siamo io e il prof in due a dare i consigli di pantacalci tu che prendete praticamente la combo perfetta e poi venerdì 16 e 45 canta live del prepartita 19 scusa 16 e 45 su pantacalcio tv line up day e poi 19 la canta live del prepartita grazie a te mohamed raga canta primo panchinaro mazzocchio boateng mazzocchi metto mazzocchi buona pasqua caro cri buona pasqua anche a te buona pasqua anche a te e niente e poi basta e poi che dire che dire basta basta non lo so vado a fare che mangiate a pranzo oggi c'ho la carbonara oggi perché è pasqua infatti vedi che servono le uova c'ho la carbonara ma c'ho le uova a casa benissimo alle 12 e 27 un eroe incanta idolo assoluto si raga no la voglio portare alle 12 e 30 non voglio chiuderla alle 12 e 27 dunque non so veramente quello che dire non so lasagne mohamed uuuuh top lasagne top e rosse passa al forno mamma mia che bello lasagne mohamed come bianche o rosse come le fai le lasagne te mi piacciono rosse con dentro noi nelle marche non le chiamiamo lasagne le chiamiamo vinci sgrassi sono lasagne con dentro l'interiora di qualsiasi animale sono grasse come una cosa schifosa guanciale croccante assolutamente si assolutamente si ho il guanciale della valtellina eh arrivato direttamente dalla valtellina e quindi no no lo facciamo apposta oggi carbonara che c'è proprio quel guanciale chiuso imbustato croccante si si come fa lo facciamo fatto bene canta nel mantra osico e piccico come ha metto lukman o raspadori no metterei lukman metterei forse perché raspadori beh oddio se non hai altri giocatori del napoli metterei forse raspadori però se già è un jesus un traore da qualche parte metterei forse lukman mi sta a venire fame si pure a me rosse mai fatte bianche a dire la verità uuuuh davvero no da me da me usano rosse usano usano praticamente molto spesso rosse usano bianche sono in accompagnamento alle lasagne rosse però noi le facciamo solitamente rosse sono sempre bianche a sentimento se c'è bianche con le verdure dipende se ci sono ma solitamente rosse canta una cosa non so se è pulito a fiorentina atalanta è un errore giusto così no è un errore no giacomo grazie mille che me l'ha segnalato no è un errore lo guardo subito appena chiudo la live lo guardo subito grazie giacomo grazie mille no è stato veramente un errore anche perché le calcolo io ultimamente quindi è stato no non l'ho calcolato io stasettimana è stato un errore applausi muame bravo a sentimento come la besciamella vedi allora vedi preferite le lasagne bianche frutti puzzoni bravi 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 raga vado a pranzo vado a prendere le uova ci sentiamo ci vediamo lunedì sera alle 22.45 qui dopo Inter Empoli nel frattempo un saluto dal secondo canale più famoso del web e si è capito la battuta sei uno sozzone raga buona Pasqua a tutti a tutti